Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori interruttori da parete. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Cuman W45 presa. Tra le versioni in vetta alle classifiche di quest'anno i nostri esperti trovano anche questa presa intelligente per diventare legati alla presa della casa per moltiplicare le proprie caratteristiche. È stato creato per il rapporto italiano in modo da eseguire non hanno bisogno di adattatori aggiuntivi per essere messo nel porto appropriato. Permette una notevole varietà di programmi per creare il controllo di elettrodomestici molto più operativo e versatile. Permette la programmazione regolare o addirittura giornaliera del cambio o anche fuori degli apparecchi collegati. Al numero 4, abbiamo funghi interruttore di luce. Il contrasto tra i prodotti top di gamma procede così come è il turno di questo particolare servizio attraente in vetro nero preparato per il contatto remoto insieme a un controllo pulsante. Funziona collegando in modalità We Relay Side Gadget per attivarsi o spegnersi direttamente toccando la scheda o premendo un interruttore sul telecomando fornito. In realtà è, tra i nostri suggerimenti di acquisto, quello con il miglior fascino squisito e raffinato. Può essere selezionato nella variazione con uno. Al terzo posto, abbiamo la VGual. Coloro che effettuano non vogliono perforare la struttura della parete per passare i cavi di relazione tra il pulsante e anche la luce potrebbe non sapere molto bene quale pulsante parete acquistare. La proposta di VGual è gradita perché è davvero semplice e anche senza sforzo da installare e anche da usare. Il pulsante invia il segnale di trasmissione a bassa frequenza al ricevitore che è collegato tramite cavo vicino al gadget per diventare regolato attraverso una chiave, tra cui un lampadario per esempio. Al numero 2, abbiamo l'interruttore luce senza fili. Allo stesso modo in questo scenario il nostro team sta parlando di un cambiamento cordless che, come gli altri, si classifica di essere in grado di essere utilizzato per praticare fuori del muro. Abbinato agli altri, questo modello possiede una stranezza essendo composto da due componenti, quello per incollarsi alla struttura della parete e anche una base magnetica. Può essere rimosso e utilizzato da qualsiasi tipo di punto nello spazio, un vero vantaggio. Campo all'aperto, la vicinanza della scatola degli ingranaggi dipende da 200 metri. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il nodo nodo onorevole. È forse il miglior interruttore di superficie parete, soprattutto dato che utilizza l'innovazione avanzata per trasformare l'idea di consumo e anche il rapporto con l'energia elettrica in contrasto con esattamente come la nostra azienda sono stati effettivamente utilizzati per concepire fino ad ora. Il cambiamento integra la soluzione Enocen, un innovatore del globo nella tecnologia di power che grava. E in realtà, questo pulsante funziona senza la necessità di essere collegato all'esistente, migliorando lo stress del dito sul segreto in una corsa elettrica. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.